Allora, lì ci metto le vignette, sì, poi qua ci metto Darth Vader, che piace sempre, però devo trovare qualcosa da fargli dire. Mi trovo sulla Terra, suppongo. Non sei obbligato a rispondermi, so già di trovarmi sulla Terra, più o meno a metà del ventesimo secolo, nel 1957. Sì, proprio. Sei un po' in ritardo, eh? Di più di 50 anni. E sei in ritardo anche per il video sui viaggi nel tempo. Ciao mondo. Torniamo a parlare di fumetti. E lo facciamo con l'opera di Hector Germán Osterald e Francisco Solano López. L'Eternauta. Per capire però il significato di questa storia e il messaggio non troppo celato nelle sue pagine, dobbiamo contestualizzarla un attimo. Il 4 settembre 1957 viene pubblicato in Argentina sulla rivista Horaceiro Semanal il primo numero dell'Eternauta. L'Argentina stava attraversando in quel momento un periodo abbastanza travagliato, in quanto due anni prima era stato deposto il presidente Joan Domingo Perón. Perón è stato un politico e un militare che ebbe un forte impatto sulla storia del paese, ma anche un personaggio controverso. Prima di salire al potere, aveva preso parte al colpo di stato del 1943, che aveva segnato la fine della cosiddetta decada infame. Ricoprì diverse cariche ministeriali fino al 1945, quando a causa di dissensi interni venne costretto alle dimissioni e arrestato. Ma il grande consenso di cui godeva presso la popolazione determinarono il suo rilascio e la vittoria alle elezioni presidenziali l'anno successivo. L'ideologia proposta da Perón, il peronismo, si propose di seguire la cosiddetta terza posizione, ossia di mediare tra le istanze comuniste e capitaliste, puntando a conciliare le diverse classi sociali senza porle in competizioni. E si concretizzò nel partito giustizialista. Sotto la sua presidenza, l'Argentina varò numerose riforme, atte ad avvantaggiare i lavoratori, a modernizzare lo Stato e a statalizzare numerosi apparati del paese. Perón mantenne l'asilo politico che l'Argentina aveva concesso in passato a criminali di guerra nazisti, ma al contempo avviò trattative diplomatiche con Israele. Sebbene inizialmente non ci fossero contrasti con la Chiesa, l'approvazione di leggi a favore del divorzio e dell'aborto e la progressiva laicizzazione dello Stato contribuirono a creare una rottura che sfociò in uno scontro aperto. Il 16 giugno 1955, militari antiperonisti vicini agli ambienti cattolici fecero bombardare Plaza de Mayo durante una manifestazione. La stessa piazza in cui, anni prima, i sostenitori di Perón erano riusciti ad ottenere la sua liberazione. Ci furono 364 morti e i descamisados, come venivano chiamati i sostenitori di Perón, reagirono con violenza, attaccando e dando le fiamme diverse chiese. Il golpe che ne seguì portò alla deposizione e all'esilio in Paraguay di Perón e al ritorno in Argentina di un regime militare. I partiti comunista e giustizialista vennero dichiarati illegali. La Costituzione venne abolita e gli oppositori politici vennero perseguitati. Si aprì un periodo caratterizzato da una forte instabilità, colpi di Stato, regimi più o meno autoritari e pressioni dell'esercito sulla vita politica. È in questo clima di aspre tensioni politiche che viene pubblicato L'Eternauta, scritto da Hector Germán Osteran e disegnato da Francisco Solano López, che narra le gesta... Senti Al, prima di iniziare a parlare dell'Eternauta, non dovresti dire anche che... Ascolta, sto cercando di fare un discorso serio, va bene? Evitiamo cadute di stile! Ah, cadute di stile. E allora tu di che stai per raccontare tutta la storia. Sì, in effetti sto per spiattellare tutta la storia, finale compreso. Buenos Aires. A casa di uno sceneggiatore di fumetti, un misterioso individuo si materializza su una sedia. Un uomo con un'espressione vissuta, il cui volto e le cui mani sono solcate da profonde rughe. Dice di essere l'Eternauta, un viaggiatore temporale che vaga senza meta da un secolo all'altro e inizia a narrare la sua storia. La scena si sposta a casa di Joan Salvo, nome originale dell'Eternauta. Joan, proprio come Perón. Che sta trascorrendo una piacevole serata tra amici, giocando a carte. L'atmosfera è pacata, lieta. Joan pensa quanto sia fortunato ad avere dei cari amici. Elena, l'amata moglie, e Martina, la figlia. Ma questa serenità è destinata a essere bruscamente interrotta. La pace familiare sparisce, sostituita da confusione, paura, orrore e incredulità. La catastrofe assume la forma di una nevicata. Letali fiocchi di neve che uccidono all'istante qualunque essere umano tocchino. Neve luminescente, improvvisa, mortale, che ammanta e cela allo sguardo ogni cosa, lasciando solo una città distrutta, in rovina, silente. Subito colpisce l'umanità dei personaggi e i loro sentimenti. Gli stessi che il lettore potrebbe provare in una situazione analoga. La preoccupazione per i propri cari prima e poi per gli amici ed i vicini. L'improvvisa consapevolezza di quello che è successo, delle morti dei propri familiari, dei colleghi, dei conoscenti, di come la vita di qualche istante prima si è stata spazzata via, completamente annientata. In ogni tragica situazione c'è chi reagisce nel modo più diverso. Tutti, come Joan, hanno paura. Ma c'è chi cede al panico, come Polsky. Chi fa di tutto per vincere il terrore e non apparire un codardo, come Lucas. E chi mantiene la mente fredda e prende in mano la situazione, come Favalli. Questo assume un significato particolare, se inserito nel contesto argentino dell'epoca, perché rievoca, nelle atmosfere e nelle dinamiche, scenari di guerra, colpi di stato, conflitti che scoppiano improvvisamente, devastando vite, abitudini, città. Tali situazioni sono richiamate anche nella sensazione di impotenza, quando i superstiti assistono in ermi alla morte dei vicini senza poter fare nulla per intervenire, e anche nella successiva riorganizzazione per sopravvivere. Essi dovranno infatti concentrarsi sul breve periodo, sulle necessità immediate, per non farsi sopraffare dallo sconforto. L'espediente narrativo adottato per fornire ai personaggi i mezzi con cui riorganizzarsi è la soffitta di Joan, centro degli hobby dei suoi amici e fonte preziosa di materiale d'ogni sorta. La prima preoccupazione, prima del cibo e dei medicinali, sono le armi. Infatti, le regole della convivenza civile sono state cancellate, seppellite anch'esse dalla nevicata e sostituite dalla lotta per la sopravvivenza e dal sospetto reciproco. È a questo punto che vengono avvistate strane sfere nel cielo e i protagonisti capiscono che il loro pianeta è sotto attacco. Qualcuno ha pianificato la conquista della Terra e lo sterminio dei suoi abitanti. Da un lato, essi si trovano a dover sopravvivere ai loro stessi simili e dall'altro a dover affrontare una forza di invasione aliena spietata e dotata di un potere sconfinato. I terrestri, presi tra due fuochi, continuano a combattersi tra loro, ma sopraggiunge l'esercito che li costringe a fare fronte comune. Imprenditori, docenti, operai, garzoni... Ogni sopravvissuto, tranne le donne, è chiamato a combattere e a opporsi all'invasore senza alcuna distinzione di ceto sociale. La situazione viene stravolta improvvisamente e nessuno ha il tempo, la forza o la volontà per obiettare. Sono appena diventati soldati e non dovranno più combattere per sopravvivere, ma per la propria libertà. Ognuno affronta la cosa in maniera diversa. Favalli con la sua fredda logica da scienziato, a volte anche un po' cinica. Mosca concentrandosi sulla registrazione degli eventi, da lasciare alle ipotetiche generazioni future. Salvo viene a patti con le proprie paure e con il senso di responsabilità che il comando comporta. Egli infatti si ritrova promosso a tenente e a capo di un drappello di soldati improvvisati a cui viene affidata una missione suicida. Missione da cui nessuno si tira indietro. Durante questa spedizione viene finalmente mostrato il nemico, o meglio i suoi schiavi, il cascarudo, alieni insettoidi controllati e pilotati tramite macchine impiantate nel loro cervello. La consapevolezza che il nemico è un alieno muta l'atteggiamento delle persone che smettono di combattere tra di loro e si uniscono senza esitazione nella lotta contro il nemico comune. Ma è proprio la paura, la peggior arma del nemico che Salvo e i suoi compagni sono chiamati a combattere. Allucinazioni che fanno leva sul ricordo degli amici morti, sull'amore per chi è rimasto in vita, sui sentimenti di un combattente che lotta per difendere la propria terra. Anzi e timori prendono forma davanti ai loro occhi ed essi non esitano ad alzare il fuoco uno contro l'altro. A stento i soldati sopravvivono, ma solo per affrontare nuovi pericoli. Ai cascarudo si affiancano altre pedine. Prima gli uomini robot, umani traditori inconsapevoli della loro stessa gente, manipolati tramite gli impianti che annullano la mente e la volontà. Non pensano, non reagiscono, si limitano ad obbedire silenziosamente, come militanti plagiati dalla propaganda di regime. Poi Imano, alieni caratterizzati da mani sproporzionate con numerose dita. Dalle loro postazioni simili a pianoforti dirigono le operazioni. Manipolano gli umani manovrandoli nell'ombra al sicuro, causando così la caduta della terra. Ma in realtà si limitano a eseguire lo spartito scritto per loro da qualcun altro. I loro. Anche Imano, infatti, sono in qualche modo delle vittime dei loro. I veri invasori. Essi erano infatti un popolo pacifico, dedito alla contemplazione della bellezza, ma vennero conquistati dai loro, che li trasformarono in schiavi, e, per garantirsi la fedeltà dei loro servi, impiantarono nel loro corpo una ghiandola, che li avrebbe uccisi nel caso avessero provato paura. Incapaci di disobbedire, tradire o ribellarsi, Imano rappresentano i servi che rimangono fedeli al potere per paura, per paura di morire, e pertanto è come se fossero già morti, ma anche vulnerabili. Chi combatte guidato da un ideale di libertà è di certo più determinato di chi combatte solo per salvare la propria vita. Imano rappresentano i pavidi, coloro che rimangono prigionieri della propria paura, che, come detto, è l'arma più potente degli invasori. Invasori ai quali Mano sono incapaci di ribellarsi, se non tardivamente, quando sono ormai in punto di morte. I loro non vengono mai mostrati, non si palesano, rimangono nell'ombra, non si sa quale sia il vero volto dei loro, questo perché potrebbero essere chiunque, in qualsiasi regime totalitario e oppressivo, sia esso terrestre o meno. Di essi sappiamo solo ciò che ci dice un Mano poco prima di ispirare. I loro sono l'odio, l'odio cosmico, essi vogliono per sé l'intero universo. Qualche vittoria iniziale e la fine della mortale nevicata fanno ben sperare i soldati, ma se Hector Germain Hostereld introduce un filo di speranza è solo per poterla stroncare. Gli alieni sembrano aver mutato intenzione e voler battere in ritirata, ma è una trappola. L'esercito viene annientato e i suoi membri sterminati. Joan e Favalli sono, nuovamente, tra i pochi superstiti. Si trovano ad affrontare i Gurbo, gigantesche creature inarrestabili. I passi pesanti dei Gurbo percuotono l'asfalto, facendo tremare il suolo e riecheggiando in lontananza come i boati di bombe. E proprio come bombe abbattono i palazzi, distruggono le città e terrorizzano la popolazione. Joan, Favalli e il giovane Franco, unici superstiti dell'esercito, si mescolano tra gli uomini robot, come degli infiltrati tra le schiere nemiche, e raccolgono preziosi informazioni da passare agli altri esseri umani che, da qualche parte sul pianeta, stanno ancora lottando. Scie di missili intercontinentali compaiono infatti in cielo e ricordano ai tre che non sono soli. La Terra non è ancora stata sconfitta. Giungono nel quartier generale dei loro. Piazza del Congresso. Il cuore politico è vero centro di potere argentino. L'obiettivo dei numerosi colpi di Stato che si sono succeduti in passato e che si succederanno in futuro. È facile quindi capire a chi alluda l'eternauta quando si riferisce ai loro. A chi occupa il potere. E sono infatti i simboli del potere, di cui loro hanno preso possesso, a venire distrutti durante un attacco aereo. Primo tra tutti il Palazzo del Congresso, che crolla colpito da una bomba come ad invocare la caduta dell'attuale regime. Un attacco disperato. Quando ormai tutto sembrava perduto, va a buon fine. E i loro, o perlomeno un loro contingente, vengono sconfitti. In loro assenza, i mano periscono. Gli uomini robot rimangono immobili, incapaci di agire senza ordini. I cascarudo emettono versi e i gurbo si attaccano l'un l'altro. Come quando cade un tiranno e c'è chi muore con lui. Chi non sa più cosa fare senza una guida da seguire. Chi urla e chi si scanna a vicenda. La vittoria ha però un costo altissimo e una durata effimera. Buenos Aires è rasa al suolo, atomizzata da una testata nucleare. E la neve mortale torna a cadere. Recongiuntosi con la famiglia, Joan e gli altri decidono di tentare la fuga. Di scappare per portare agli altri essi umani le importanti informazioni che hanno scoperto. Tramite la radio, apprendono infatti che la resistenza si sta riorganizzando. E che un punto di raccolta è stato stabilito a nord di Buenos Aires. Ma si tratta di un'altra trappola. I loro controllano la radio. L'unico mezzo di informazione è rimasto. E subito balza all'occhio l'analogia coi regimi che impediscono la libera informazione e manipolano le notizie. Favalli, Mosca, Pablo e Franco sono catturati e trasformati in muti e obbedienti uomini robot. Joan, con la moglie e la figlia, tenta un gesto folle. Entrare in possesso di uno dei veicoli alieni e usarlo per fuggire. Ma qualcosa va storto. Ed egli si ritrova a pagare nello spazio e nel tempo. Un naufrago nell'eternità, da cui il suo appellativo, l'Eternauta. Solo, senza più nemmeno Elena e Martina, si ritrova su un pianeta deserto e sconosciuto. Qui, un mano, gli spiega ciò che egli è divenuto attivando il macchinario. Un viaggiatore dell'universo e della realtà. Destinato ad attraversare epoche e mondi per continuare l'eterna lotta contro l'oppressione. Ma i viaggi che Joan Salvo ha compiuto per compiere il suo destino, alla ricerca della moglie e della figlia perdute, non vengono raccontati. L'attenzione ritorna infatti all'interlocutore iniziale. Lo sceneggiatore di fumetti, il quale comprende che i fatti narrati devono ancora accadere. Stando al racconto di Joan Salvo, avverranno tra quattro anni e possono ancora essere scongiurati. Ma se Joan è tornato in un punto del tempo precedente alla sua partenza, vuol dire che sua moglie e sua figlia sono vive, che stanno bene. Egli corre da loro, le ritrova e, come se la realtà venisse improvvisamente riscritta, torna alla sua vecchia esistenza, alla sua famiglia, ai suoi amici, dimentico di tutto quello che aveva vissuto e raccontato sinora. Lo sceneggiatore rimane solo, terrorizzato dalla consapevolezza di quello che succederà tra qualche anno, rivelandoci che egli non è altro che l'alter ego di Hector Germain Ostereld, si chiede se pubblicando la storia sarà possibile evitare la distruzione della Terra. Ed è con questo interrogativo che si conclude il racconto. La narrazione nell'Eternauta procede lenta e costante, inesorabile come il destino. Gli elementi narrativi, le creature aliene, le loro armi, i loro piani vengono tutti introdotti uno alla volta. In alcuni casi sono anche anticipati e questo va a creare un'atmosfera di crescente pericolo e tensione. La speranza è una debole fiamma dalla luce fioca e ogni volta che il suo fuoco viene alimentato e sembra aldere più forte, la spietatezza dei loro trova modo per consumarlo. Ma non riesce mai a spegnerlo del tutto. L'Eternauta non si arrende e persevera nella lotta, il cui esito finale rimane ignoto. Le minacce sono onnipresenti e ben rappresentate dall'incessante nevicata. Per la durata di oltre un anno editoriale, sulle pagine dell'Eternauta continuano a cadere fiocchi di neve, tanto candidi quanto mortali. Tramite l'Eternauta, Hector Germán Hostelard lancia pesanti accuse al regime militare, colpevole di aver spodestato Perón. Nelle vignette dell'Eternauta è anche possibile individuare messaggi d'appoggio al futuro presidente Arturo Frondisi, che sebbene fosse stato un oppositore di Perón, era comunque riuscito ad ottenere il suo appoggio dall'esilio durante le elezioni del 1958. Sebbene l'opera si riferisca alla realtà argentina dell'epoca, i suoi temi sono facilmente generalizzabili e la lotta contro i loro può diventare una qualsiasi guerra di resistenza contro un esercito invasore. I temi toccati dall'Eternauta vanno dall'invasione e occupazione alla conoscenza e comprensione del nemico, dalla manipolazione dei mass media alla tecnologia asservita al potere e usata per controllare la popolazione. Particolare attenzione è posta sul fatto che il potere non si sporca le mani direttamente, non si espone, ma preferisce servirsi di sottoposti, manipolare e tessere trame nell'ombra protetto da una cupola impenetrabile. Come distinguere quindi un nemico da un alleato? I deboli sono sfruttati e messi l'uno contro l'altro. Che sia per la lotta per la sopravvivenza o perché la loro mente è stata svuotata, l'esito è sempre lo stesso, oppressi contro oppressi. Ed è il gruppo il vero protagonista della storia. È l'affiatamento, il senso di unione, lo spirito di sacrificio che mantengono uniti i sopravvissuti. Joan Salvo non è il guerriero, non è il salvatore, non è l'eroe. È la persona comune, quale potrebbe essere il lettore, che ha paura, si vergogna, si fa prendere dallo sconforto, ma che sempre riesce a trovare il coraggio per fare la sua parte. Infatti è proprio quando il gruppo viene meno, quando Joan si ritrova da solo, che la storia finisce. Ma oltre ad avere un forte significato politico, l'Eternauta è anche una grande opera di fantascienza, che anticipa e rielabora parecchi temi che verranno poi ripresi in futuro. Per esempio quello dell'invasione, già presente nella Guerra dei Mondi, e che ritroveremo più avanti in Doctor Who con i Dalek, oppure in Visitors, o in un gozziliardo di altri film. Oppure l'idea di realtà sovrapposte e coesistenti, che ritroviamo in serie televisive recenti come Heroes, Lost, Fringe, ma anche La difesa della propria famiglia, o creature mostruose e devastanti, o ancora l'essere braccati e assediati in un edificio, mentre il mondo là fuori va a scatafascio. Per quel che riguarda il disegno, invece, Francisco Solano Lopez realizza delle vignette piccole ma dense di dettagli, caratterizzate da un forte contrasto tra il bianco e il nero. Basti vedere i disegni in cui i personaggi si muovono sullo sfondo di una neve talmente abbagliante da ferire gli occhi. Proprio negli occhi si cela uno degli elementi più importanti dell'estetica dell'eternauta. Gli sguardi dei personaggi sono intensi ed espressivi. Tristi, fieri, arrabbiati, rassegnati, disperati, Francisco Solano Lopez riesce a far esprimere loro tutta la vasta gamma delle emozioni dell'animo umano. E' con gli occhi che Joan Salvo spia gli alieni, che cade vittima delle loro illusioni, che piange e persino usarli non è facile. La neve nasconde tutto alla vista. Spiare gli alieni è pericoloso e persino credere a ciò che si vede è difficile, sia un addirittura un errore quando si cade vittima delle illusioni dei loro. Nelle tavole vengono mostrati luoghi reali di Buenos Aires. Questo fa assumere alla storia una dimensione più riconoscibile e aiuta il lettore a capire di cosa si sta parlando. Non di un mondo lontano, ma di quello che stava succedendo in Argentina al momento. Vediamo infatti il Corso General Paz, lo Stadio River Plate, l'Ippodromo, il Gazebo a Barrancas de Belgrano, Plazza Italia e Plazza del Congresso. In una di queste vignette è possibile scorgere in Calle Paraguay un omaggio a Hugo Pratt, col quale Osterhead aveva collaborato sin dal primo numero di Horacero Semanal al fumetto Ernie Pike. Inoltre il Paraguay è dove si era rifugiato inizialmente per on durante l'esilio, prima di trasferirsi in Spagna. Non so però se questa è una citazione voluta oppure solo un caso. L'Eternauta ha comunque dei limiti, imputabili non tanto alla storia o ai disegni, ma quanto alla modalità con cui è stato pubblicato. Bisogna infatti tenere a mente che l'Eternauta è stato pubblicato nell'arco di tre anni attraverso 105 numeri della rivista Horacero, al ritmo di un numero di pagine settimanali che andava dalle 3 alle 7. La storia un po' risente di questa pubblicazione frammentaria. Capita spesso che metafore o concetti vengano ripetuti più volte, per esempio nel caso della similitudine con l'isola di Robinson Crusoe. Come se si volesse riassumere al lettore che si fosse perso qualche numero quanto successo sinora. Molto spesso le frati sono spezzate tra una vignetta e l'altra, lasciate in sospeso e poi riprese completate, e questo rende la lettura poco fluida. Inoltre per tutta l'opera viene tenuto alto il livello di tensione, ma anche quando questo non è necessario. Per esempio come quando i protagonisti sono spaventati da voci che sentono provenire dalla soffitta, ma in realtà è soltanto la radio che era stata lasciata accesa. Questo perché probabilmente il fumetto sfruttava la serializzazione per inserire dei colpi di scena nelle ultime vignette del numero in questione, effetto che però viene perso leggendo l'opera tutta ad un fiato. Il volume della 001 edizioni ricostruisce l'opera nel suo formato originale, disponendo le vignette proprio come delle strisce e riorganizzandole per il formato orizzontale. È stato compiuto un lavoro certosino di recupero e restauro dei disegni originali. Probabilmente alcune tavole sono andate perdute, perché si nota in alcuni punti che la precisione del disegno non è la stessa, ma sicuramente il volume raggiunge il massimo livello qualitativo possibile. Successivamente alla pubblicazione dell'Eternauta, le cose cambiarono in Argentina. In peggio. Nel 1962 il presidente Frondisi viene rovesciato da un ulteriore colpo di Stato e quattro anni dopo la stessa sorte tocca al suo successore, il LIA. Il nuovo capo di Stato, Ongania, sospese i partiti, il diritto allo sciopero, i contratti collettivi, l'autonomia delle università, le minigonne e i capelli lunghi per i ragazzi. Ongania venne poi deposto nel 70 da una giunta militare e sostituito dopo qualche tempo dalla Nusse, che ripristinò le libere elezioni. Elezioni che nel 73 vennero vinte nuovamente da Peron, tornato in patria dall'esilio, che però morì di infarto l'anno successivo. Il paese versava in uno Stato altamente instabile, in balia di scontri armati tra i diversi schieramenti politici, peronisti, montoneros, triplo A, e il coinvolgimento di interessi e forze straniere, quali la CIA e la P2. La P2. Isabelle, moglie di Peron, ne raccolse l'eredità, prima di venire anch'essa rovesciata da un ennesimo colpo di Stato nel 1976. Colpo di Stato che permise l'ascesa al potere di Videla. Videla diede il via al cosiddetto processo di riorganizzazione nazionale, un'ulteriore svolta totalitaria in favore di un regime reazionario, filofascista e antidemocratico, macchiatosi innumerevoli volti di violazioni dei diritti umani. In questo periodo venne sciolto il Parlamento, aboliti i diritti civili, smantellati partiti e sindacati, messi sotto controllo governativo TV, radio e giornali, e introdotta la pena di morte. Gli oppositori alla dittatura venivano fatti sparire nel silenzio. Si stima che dal 1976 al 1983, durante il processo di riorganizzazione nazionale, oltre 30.000 sospetti dissidenti siano divenuti desaparecidos. L'Eternauta era stato profetico. I loro avevano vinto. Anche Osterald cambia in questi anni. Nel 1962 continua l'Eternauta sotto forma di racconti, su una rivista che reca lo stesso nome dell'opera. Il romanzo è destinato a restare incompiuto, ed è di prossima pubblicazione in Italia, sempre dalla 001 Edizioni. Dal 1968, l'impegno politico di Osterald si fa più diretto. Sotto l'influenza delle sue figlie, Diana Irene, Beatriz Marta, Estela Ines e Marina, si avvicina in Montoneros, gruppo guerrigliero peronista. Inizia un progetto per pubblicare biografie di personaggi celebri del Sud America. Riesce a realizzare soltanto il primo numero, dedicato a Che Guevara, ma le copie vengono sequestrate e distrutte dal governo. L'anno seguente realizza una seconda versione dell'Eternauta, un remake che verrà pubblicato sulla rivista Gente, i cui disegni sono affidati ad Alberto Breccia. Una versione molto più esplicita dei contenuti, con attacchi diretti al regime, ma anche al capitalismo americano e all'esercito, che nella prima opera era stato presentato positivamente. Questo in base a quello che ho sentito, perché io in realtà non l'ho letta. Il credo politico e ideologico di Osterald permea tutti i suoi lavori successivi, culminando nel 1976, all'indomani dell'ascesa di Videla, nell'Eternauta 2, pubblicato sulla rivista Scorpio e noto anche come l'Eternauta Il Ritorno. Joan Salvo ritorna, come rispondendo alla nuova crisi che sta attraversando l'Argentina. Le vicende riprendono da dove le avevamo lasciate. L'incredulo interlocutore dell'Eternauta ha pubblicato la sua storia, due volte a fumetti e una volta in un libro. Esattamente come nella realtà. Sembra l'unico a credere agli eventi che sono stati raccontati, ed è sul punto di impazzire. Ma nonostante questo è accolto da Joan e dai suoi amici. E durante una partita a carte, proprio come nella prima storia, qualcosa cambia. E anche Joan inizia a ricordare. Sta accadendo qualcosa. Ma come dichiara l'Eternauta, non si tratta di nuovo della nevicata. È qualcosa di molto peggio. Peggio dei loro. Peggio del passato. Peggio di un'invasione aliena raccontata in un fumetto. Perché la realtà ha superato la fantasia. È alla realtà oltre le vignette del fumetto, ciò a cui si riferisce Joan. Il cui sguardo penetrante esce dal foglio per incontrare quello del lettore. Germano, Joan Salvo, Elena e Martina si trovano in un nodo spazio temporale, che ha trasportato la casa da qualche parte nel futuro, abbandonando Favalli e gli altri. Il tempo si è riannodato e ora si trovano nel 2100, in un futuro in cui il piano dei loro ha avuto successo e la terra è caduta. Joan prende in mano la situazione e fa le veci di Favalli. Mentre invece adesso è Germán a essere incredulo e a dover affrontare una nuova realtà. Anche il racconto è narrato dal punto di vista di Germán. È lui il narratore protagonista, non più Joan. Questa traslazione di ruoli identifica Germán, alter ego dell'autore, col protagonista della vicenda. Autore e personaggio si sovrappongono e la storia dell'Eternauta diventa la storia di Hector Germán Osteredt. L'incertezza e la paura del primo volume sono sostituite da un'atmosfera di costante pericolo, incarnata in ombre fugaci, suoni minacciosi, animali selvatici e una misteriosa astronave. Così come per l'Argentina del 1976, anche il mondo dell'Eternauta è cambiato. Il clima, la fauna e la flora non sono più gli stessi. Gli animali, forse mutati a causa delle radiazioni, sono diventati più aggressivi e intelligenti. I luoghi un tempo familiari sono ora irriconoscibili, come il rio della Plata, che col tempo ha scavato un profondo canyon. In questa storia non sopravvivono nemmeno le case o le auto sepolte dalla coltre di neve. Non c'è più nulla. Durante la prima uscita dei due uomini, la casa viene distrutta da un borbo e Elena e Martina paiono essersi salvate, ma trovano altre impronte umane oltre le loro. L'umanità, in qualche modo, deve essere sopravvissuta anch'essa a quanto accaduto. E infatti, mentre l'inquietante astronave continua a sorvolare questo mondo desolato, si imbattono nei sopravvissuti umani, il popolo delle caverne. Un gruppo di fieri ragazzini di cui riescono a conquistarsi la fiducia. Vengono però attaccati dai brutali zarpo. Durante questo primo scontro è possibile osservare quanto sia mutato il carattere dell'eternauta. È più determinato, senza esitazioni, disposto a usare German come esca e capace di uccidere a mani nude lo zarpo che portava con sé il fazzoletto di sua moglie. Completamente diverso rispetto al Joan Salvo a cui eravamo abituati. Un cambiamento che sicuramente riflette i mutati sentimenti dell'autore. Ma Elena e Martina sono salve. Recuperate dal popolo delle caverne che spiega come sia cambiata la situazione sul pianeta. L'invasione si è conclusa da tempo e l'umanità ha perso tutta la conoscenza e il progresso che aveva raggiunto. Il popolo delle caverne, discendente dei pochi sopravvissuti, vive in uno stato di sudditanza verso il Forte, una cittadella inespugnabile in mano ai loro. Non a caso il Forte porta l'antico nome della Casa Rosada, il centro del potere esecutivo argentino dove risiedono gli uffici della presidenza. Ogni tentativo passato di ribellione è stato stroncato nel sangue, anche grazie all'impiego degli zarpo che vengono creati artificialmente nei laboratori del Forte. Non siamo più in presenza di un tentativo di invasione. Gli alieni hanno già vinto, l'uomo ha perso, la libertà è andata perduta. Recentemente però qualcosa è cambiato. I viaggi dell'astronave verso il Forte si sono fatti più frequenti e un mano giunge con nuove richieste. Ma Joan incita il popolo delle caverne. Gli esorta a riprendere la lotta, a impugnare le armi e muovere guerra contro gli invasori. È un atteggiamento nuovo per l'Eternauta. Anche Germain stenta a riconoscerlo mentre scruta il Forte con sguardo rabbioso. Joan non ha più paura di combattere, anzi è convinto che sia questa la via da seguire ed è pronta a guidare ciò che rimane della razza umana nella battaglia finale. Il mano ritorna e pretende che gli vengano consegnati Joan e Germain. I due, per salvare il popolo delle caverne, non oppongono resistenza e vengono catturati, ma alla prima occasione riescono a distruggere il carro armato del mano, anzi del presunto tale. Egli, infatti, era uno dei loro, uno dei responsabili della sconfitta della terra. È emblematica la vignetta in cui l'Eternauta solleva la finta pelle del mano dopo che il loro è fuggito lasciandola vuota. Come se Joan Salvo e Hector Germain Osterald non provassero più compassione per chi è costretto a seguire gli ordini dei tiranni. Anzi, sembrano ritenerli colpevoli tanto quanto i despoti. Chi non si oppone direttamente, in prima persona, con le armi, è complice della tirannia. Infatti, Joan organizza la resistenza del popolo delle caverne, riparando il carro armato sottratto al nemico, recuperando polvere da sparo e sovrintendendo la fabbricazione di armi da fuoco. Inoltre, l'Eternauta sta lentamente acquisendo coscienza che qualcosa è mutato anche in lui. Inizia ad avere visioni, intuizioni, premonizioni. Anche la sua forza fisica è aumentata e sembra possedere un'intuitiva comprensione del funzionamento delle cose, ma non ha idea del perché. E forse è proprio questo a renderlo così freddo e distante, in grado di uccidere un mano soltanto con lo sguardo, incutendogli una paura tale da attivare la sua ghiandola del terrore. L'Eternauta appare a tratti disumano, proprio come i suoi nemici. Giunge infine il giorno del contrattacco. L'Eternauta guida una ventina di uomini, tra cui Germán, in un'azione disperata contro il forte. In questa missione, un mano, usando il Cronomaster, spedisce la squadra nel passato, durante l'invasione dei loro. Qui, nel gazebo dove era già stato tenuto prigioniero, Gioan scopre la verità. I suoi poteri gli derivano da una mutazione che ha sviluppato, ed è stato mandato nel futuro da un loro, che ha rinnegato e tradito la sua razza, ma che per questo è stato ucciso. Egli però riesce ad avere la meglio sul mano che l'ha catturato, e sui suoi uomini robot, tra cui riconosce gli amici Favalli, Franco e Mosca. Vecchi e nuovi alleati cadono sotto i colpi del nemico, ma questo non ferma la lotta. Non ferma Gioan, che è disposto persino a sacrificare i propri compagni, per il buon esito della missione. Gioan, Germán e il fidato Bigua penetrano all'interno del forte, che sorge sopra i resti di un vecchio cimitero. Metaforicamente, il potere degli invasori sorge sopra i corpi di numerosi morti. I tre giungono al cospetto di un loro, che viene mostrato come una massa informe, senza un vero volto, una nube, o forse dell'energia distruttrice. Una sorta di guscio, al cui interno si cela il nemico. Sono messi con le spalle al muro, ma Gioan rivela di aver già sabotato il forte, che inizia ad ardere e ad essere consumato dal fuoco atomico. Come già fatto in passato, egli non esita nel sacrificare un compagno, Bigua, pur di raggiungere il suo obiettivo, e uccidere il loro. Germán, unico altro superstite della spedizione, è sempre più sconvolto dalla sua freddezza. I due riescono a fuggire in volo, e raggiungono le caverne, dove si sta consumando l'ultimo attacco degli zarpo. Il loro arrivo ribalta le sorti dello scontro, e salva il popolo delle caverne. Per riottenere la libertà, è stato però pagato un costo enorme. Innumerevoli uomini, donne e bambini, hanno perso la vita, e tra questi vi sono i nuovi amici di Germán e i familiari dell'Eternauta. È soltanto dopo la fine dello scontro, e l'esplosione del forte, che l'Eternauta si concede il privilegio di piangere. Joan Salvo ha guidato la resistenza con una determinazione disumana, ed è stato disposto a sacrificare chiunque, senza dubbi o esitazioni. Ogni vita può essere immolata alla causa. Quella dei suoi compagni, la propria, quella di Germán, o quella dei suoi cari. Come in ogni guerra, dopo il conflitto avviene il tempo della ricostruzione, e Joan e Germán aiutano il popolo delle caverne a ricostruire la società. Ognuno cerca di guarire dal dolore delle morti, di superare le perdite, ma... ma qualcosa trasporta nuovamente Germán indietro nel tempo. Nel 1976. Qualcuno ha attivato un altro Cronomaster? Una nuova guerra si profila all'orizzonte? Un nuovo nemico da combattere? La guerra contro l'oppressione e la tirannia è una lotta eterna. E l'Eternauta continua a combatterla, seguendo il suo destino. Joan Salvo e Germán si avviano assieme verso questa nuova, vecchia battaglia. Il secondo capitolo dell'Eternauta è ancora una storia di resistenza, ma la resistenza diventa il fine, non un mezzo. Gli uomini sono chiamati a combattere e morire anziché chinare il capo, anche se la sconfitta è certa. Questa volta anche le donne, e soprattutto i bambini, prendono parte alla lotta. Un'altra differenza col capitolo precedente è la presenza di fronti netti, buoni da una parte, cattivi dall'altra, senza nemici interni, altri esseri umani che lottano per la sopravvivenza, o mano che si pentono in punto di morte. Nella storia, oltre al crescere della rabbia e del fanatismo dell'Eternauta, è possibile vedere anche il cambiamento di carattere di Germán. Da persona solitaria e senza legami, si affeziona al popolo delle caverne, e giunge a considerarlo come una famiglia. Sarà proprio l'amore che nutre per lui, che gli darà la forza di vincere le esitazioni e di combattere. In questo secondo volume, la lettura scorre più fluida rispetto al primo, sia per quel che riguarda i dialoghi, sia per l'organizzazione delle vignette, anche se ho trovato il disegno un po' meno curato nei dettagli, ma forse questo dipende dal grande formato, che perde un po' nei particolari. Dopo la morte di Ostereld, la saga è continuata con altri capitoli. L'Eternauta Parte Terza, del 1983. L'Eternauta Il Mondo Pentito, pubblicato tra il 1997 e il 1998. L'Eternauta L'Odio Cosmico, pubblicata nel 1999. L'Eternauta Il Ritorno, pubblicato tra il 2003 e il 2006. L'edizione del cinquantesimo anniversario del 2007. E il libro dell'Eternauta L'Odio Cosmico, del 2008. Questo testimonia quanto l'Eternauta sia sempre attuale e abbia sempre qualcosa da dire. È davvero un'opera eterna e lo rimarrà finché esisteranno regimi liberticivi. Il 19 aprile 1976, Beatriz Marta, figlia 19enne di Ostereld, viene rapita e successivamente uccisa dall'esercito. Nel luglio dello stesso anno, toccò alla sorella Diana Irene, all'epoca 23enne, all'ottavo mese di gravidanza. Il marito venne ucciso durante il rapimento. Successivamente venne uccisa anche lei. Il suo corpo non venne mai trovato e il figlio non fu restituito alla famiglia. Il 27 novembre, sempre del 1976, venne rapita la loro sorella Marina, all'epoca 18enne, al secondo mese di gravidanza. Non si seppe più nulla, né di lei, né del figlio. Il 27 aprile 1977, mentre l'Eternauta e il ritorno era ancora in corso di pubblicazione, Hector Germán Ostereld venne rapito. Il suo corpo non fu mai più ritrovato. Nel dicembre dello stesso anno, l'ultima figlia di Ostereld, Estella Ines, venne uccisa assieme al marito. Il figlio venne sequestrato e solo in seguito consegnato alla nonna materna, dopo essere stato mostrato a Ostereld durante la sua prigionia. Nel 1978, Francisco Solano López fu costretto a fuggire in esilio in Spagna, dove terminò di disegnare la storia. La rivista Scorpio dell'editorial Record continuò la pubblicazione dell'Eternauta e il ritorno fino alla sua conclusione, nell'aprile del 1979, senza fare mai alcuna menzione alla tragica situazione degli autori. Grazie a tutti.